Benvenuti a questo breve video tutorial su Timeline, un'applicazione realizzata per creare delle linee del tempo per raccontare delle storie in maniera creativa e interattiva. Vediamo come funziona. Una volta caricata la pagina principale del sito, possiamo vedere un lavoro già compiuto. Per iniziare a creare la nostra Timeline, basterà cliccare sul tasto Make a Timeline. Con questo tasto, apriamo il modello offerto dall'applicazione, che noi andremo a rielaborare su Google Fogli. Questo è il modello da rielaborare. Ogni linea corrisponde a una pagina della nostra Timeline. In ogni sezione andiamo a mettere diversi tipi di informazioni. Nella prima sezione andiamo a mettere le date di inizio di ogni periodo che noi andiamo a illustrare, mentre nella seconda sezione andiamo a mettere le date di fine. Qui al centro, mettiamo le informazioni principali, il titolo e una breve introduzione al nostro lavoro, i sottotitoli e il materiale che noi vogliamo inserire e raccontare. In questa sezione, invece, possiamo andare a inserire diversi materiali presi da internet e da diverse piattaforme, come ad esempio da YouTube, da Vimeo, da Soundcloud o da altre pagine. Per inserire un'immagine, un video o qualcos'altro, basterà riportare il link nello spazio della pagina in cui noi vogliamo che appaia. In Media Credit mettiamo le fonti dei nostri materiali e in Media Caption mettiamo le spiegazioni. Qui in fondo, invece, possiamo inserire la tipologia dell'informazione che abbiamo messo, come ad esempio nella prima linea il titolo, e possiamo decidere di impostare uno sfondo, come ad esempio un colore o un'immagine. Questo è un esempio di modello rielaborato e una volta completato il nostro lavoro, basterà andare su File, Pubblica sul web, Pubblica e otterremo un link che noi andremo a inserire nella pagina principale, al terzo punto. Una volta inserito il link, possiamo decidere di cambiare diverse cose, come ad esempio impostare la lingua in cui abbiamo scritto la nostra timeline, decidere la font e altre impostazioni. Una volta contenti, possiamo fare preview e vedere l'anteprima del nostro lavoro. Una volta soddisfatti, basterà incollare il primo link se vogliamo inserire nel nostro sito, oppure il secondo link se vogliamo condividerlo su una qualche piattaforma. Questo è tutto, buon lavoro! Ciao! Ciao!